Le domande a cui voglio rispondere in questo video sono due, simili ma diversi nella risposta. La prima è, è possibile usare una tv collegata al pc anziché un monitor? E la seconda, dovreste farlo o è meglio evitare? Questa volontà potrebbe nascere spontanea, prima di tutto perché oggi alcune tv costano meno dei monitor e sono anche più grandi e in alcuni casi, dove magari ci sono come dire anche dei compromessi da affrontare in termini di spazio o costo, ci si chiede come ottenere il massimo magari da un singolo e unico investimento. Alla prima domanda, cioè se è possibile, rispondo subito. Certo, oggi se collegate una tv a un pc tramite una porta hdmi visualizzerete senza problemi le immagini, potrete lavorare, studiare, guardare youtube e giocare. Tuttavia questa è una scelta di compromessi, alcuni come dire abbastanza chiari e semplici da individuare, altri invece un po' più nascosti. Vediamo quindi quali sono questi compromessi. Prima di continuare voglio dedicare pochi secondi allo sponsor di questo video. Ti chiedo gentilmente di dare un'occhiata al link che lascio qui sotto in descrizione. È un piccolo gesto che supporta le tante ore di lavoro necessarie per continuare a realizzare e caricare video su questo canale. Lo sponsor di oggi è Sizzur, un'azienda specializzata in scanner. Sì, scanner. Avete capito bene perché i libri non sono spariti e mi capiranno bene gli studenti di tutte le età. Tuttavia sarebbe uno spreco non poter sfruttare i tablet e gli altri strumenti informatici, quindi se non esistono versioni ebook dei vostri testi potrete digitalizzarli facilmente con questo prodotto. Posizionate il libro qui sotto ci sono tutti gli strumenti e offre delle funzioni chiaramente aggiuntive come una tecnologia che elimina la curvatura indesiderata delle pagine, rileva in automatico il giro della pagina e permette di fetturare la scansione automatica. C'è anche un comodo pedale che permette di attivare la scansione con un piede mentre le vostre umani sono occupate a girare le pagine e posizionare in maniera corretta il libro e ha anche delle luci supplementari e ovviamente un software a corredo che permette di modificare facilmente i file scansionati e rimuovere ad esempio le impronte digitali. Se state studiando o comunque volete trasformare i vostri libri in versioni digitali per trarre il vantaggio di tutti gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione, considerate questo prodotto. Vi state chiedendo quanto costa? Non ve lo dico, dovete scoprirlo dando un'occhiata al link qui sotto in descrizione. Azione che supporta questo canale, quindi grazie a voi e grazie a SISUR per aver sponsorizzato questo video. Oggi la maggior parte delle tv in circolazione offre una risoluzione 4K. Esistono ancora modelli full HD ma a conti fatti costano uguale se non a volte anche di più rispetto a modelli delle stesse dimensioni e risoluzione 4 volte superiore. E' quindi importante ricordarsi che se vogliamo collegare a un pc una tv 4K la scheda grafica deve essere all'altezza. Ciò però vale unicamente se volete giocare poiché per tutte le altre cose, dalla visione di video a attività lavorative, la risoluzione 4K non è un problema da gestire. Addirittura anche pc con scheda grafica integrata nel processore ci riescono senza problemi. Chiaramente se volete optare per una tv full HD il problema chiaramente non si pone in generale perché tutte le schede grafiche, anche quelle di fascia bassa, riescono a gestire questa risoluzione e spesso e volentieri lo fanno anche con la maggior parte dei videogiochi. Tuttavia fatevi questa domanda. Ha senso optare per una tv full HD oggi? Considerando che in alcuni casi vorrete usarla come monitor, quindi non troppo distante dai vostri occhi, una risoluzione full HD da vicino su uno schermo grosso vi mostrerà chiaramente immagini meno nitide rispetto a una risoluzione 4K. E seguendo questo concetto, se optiamo per una tv 4K con schermo grande, anche in questo caso a una certa distanza si potranno vedere immagini non particolarmente nitide. La vicinanza allo schermo e la dimensione dello schermo stesso rappresentano due punti su cui bisogna, come dire, pensarci bene prima di fare questo passo. Ma per quanto riguarda la dimensione ne parleremo fra poco. Se l'obiettivo è usare una tv collegata al pc, dovreste quantomeno cercare di prendere un modello dotato di porte HDMI 2.0 o anche meglio HDMI 2.1. Il motivo è che questo standard, nelle ultime versioni, è in grado di gestire la risoluzione 4K, in alcuni casi anche 8K, però non pensiamoci adesso, dicevo 4K a 60 Hz o anche 4K a 120 Hz per l'ultima versione. I 60 Hz sono, secondo me, un minimo sindacale per l'uso del pc oggi. Un refresh rate più basso lo vedrete un po' ovunque, anche, come dire, nello scorrimento dei vari elementi a schermo. Se poi, ovviamente, parliamo di gaming, si possono ancora di più apprezzare facilmente i 120 Hz, che vi assicurano delle immagini più precisi e stabili, che in generale quindi offrono una miglior esperienza di gioco e maggior controllo. La limitazione sulla TV è che, oltre questa velocità, non si va. Quindi, se siete videogiocatori, prima di tutto, potreste sentire la mancanza di refresh rate superiori, dai 144 Hz in su. Per il mondo delle TV, il cui lavoro è principalmente visualizzare filmati o essere buone compagne di Xbox e PlayStation, installare pannelli più veloci ha chiaramente poco senso, quindi non troverete soluzioni con, come dire, prestazioni pari a quelle dei monitor classici. Inoltre c'è la questione della mancanza delle porte DisplayPort. In termini di caratteristiche, cioè di quello che permettono, DisplayPort e HDMI, nelle rispettive ultime versioni, sono in grado di offrire le stesse cose. Ma, laddove il DisplayPort è stato ormai abbracciato, principalmente per alcune sue funzioni aggiuntive, dal mondo dei computer, dell'informatica, per le TV è ancora l'HTMI che, come dire, fa da standard. Quindi non troverete TV con DisplayPort, a parte pochissimi modelli, o a parte alcuni, come dire, monitor PCD grandissime dimensioni, che a volte sono vendute come TV ma non lo sono, perché di fatto sono dei monitor in tutto e per tutto. Un altro elemento da considerare è la velocità del pannello. Non è il refresh rate, che è la quantità di volte che il pannello rigenera l'immagine in un'unità di tempo, in un secondo. Ma è il tempo in cui i vari segnali video e i vari pixel sono in grado di cambiare stato, quanto lo fanno velocemente. Una condizione che può impattare in maniera importante sull'input lag, cioè il tempo che passa da quando voi date un input, come ad esempio muovete il mouse, e il momento in cui questo input si traduce in un cambiamento a schermo. Se guardate un film, questa cosa non è importante. Se giocate o fate attività dove l'input lag invece è un fattore importante, allora chiaramente lo diventa. I produttori di TV tendono a fare un continuo processing del segnale video, con l'intento di migliorare la qualità delle immagini in termini di cromia, nitidezza, contrasti e via discorrendo. Tutte queste operazioni che vengono fatte da veri e propri processori, video all'interno delle TV, non vengono fatte in maniera istantanea, ma richiedono chiaramente del tempo, alcuni millisecondi. Tempo che, in base a quante operazioni vengono fatte, vanno a incidere sull'input lag. Solitamente molte TV moderne oggi offrono la modalità gaming, che quello che fa questa modalità principalmente è eliminare questa tipologia di lavori, di processi del segnale. Proprio per evitare di aggiungere dei ritardi e che quindi vanno a impattare sull'esperienza di gioco. Se siete nella condizione in cui esiste questa modalità che elimina questi problemi, chiaramente, e che funziona bene ovviamente, allora questo potrebbe non essere un problema, ma chiaramente è un altro elemento in cui bisogna essere sicuri che sia presente e su cui lavorare. Su alcune TV c'è ancora il problema dell'overscan. Una funzione che, detto in maniera abbastanza brutale, taglia una parte dell'immagine, i bordi solitamente, per assicolare che l'immagine venga visualizzata su tutta l'area visibile. È qualcosa di veramente antico, che tuttavia in alcuni casi viene ancora implementato e usato perché i produttori di contenuti sfruttano ancora questa funzione. Non approfondisco altro adesso. Se questa funzione è presente sulla TV potreste ritrovarvi con alcuni elementi del sistema operativo tagliati, non visualizzati correttamente, un menu sottostante che viene un po' tagliato e non visualizzato nell'interezza, degli elementi un po' distorti, insomma, degli adattamenti che non fanno bene. Non è detto che sia presente su tutte le TV. Se è presente, e solitamente c'è la possibilità, deve essere disabilitato, sperando che ci sia questa possibilità. In questo caso sto parlando di compressione colore, o meglio quello che si chiama Chroma Sub Sampling. È un metodo che permette di diminuire la quantità di dati che devono essere trasferiti per visualizzare l'immagine, senza però impattare, quantomeno a colpo d'occhio, sulla qualità dell'immagine stesso. Questa tecnica serve per lo scopo principale dei televisori, quindi quello di visualizzare video. Tuttavia la compressione aggressiva dei colori può influire molto sulla visualizzazione delle informazioni molto dettagliate, ad esempio un testo che è, come dire, un elemento essenziale quando lo utilizziamo un PC. Se la TV implementa una compressione elevata e se questa compressione non può essere disabilitata, il risultato sarà avere testi poco nitidi, quindi tutte le scritte dei vari sistemi operativi, o anche scritte piccole che trovate nei videogiochi, o tutte le schermate, insomma, applicazioni che vogliamo noi utilizzare con il PC e che sono ricche di dettagli. Questo rapporto di compressione è definito solitamente con tre numeri, nel formato 4, 2.4, 2.4, numeri che indicano le dimensioni delle matrici e dei colori. 4, 2.4, 2.4, quindi 4, 4, 4, 4, non rappresenta alcuna compressione ed è un bene per PC e videogiochi, mentre qualsiasi cosa di differente è un potenziale problema, ad esempio se vedete che quella TV utilizza una compressione, un Chroma Sub Sampling 4, 2, 2 o anche 4, 2, 0, potrete, anzi sicuramente, vi ritroverete nella situazione descritta prima, quindi con problemi di visualizzazione e di nitidezza di tutti gli elementi più piccoli, testi in primis. Dopo avervi raccontato tutte queste motivazioni tecniche, alcune magari le spevate, altre sono un pochettino più nascoste, torniamo, come dire, su una motivazione più semplice che però da sola potrebbe far desistere dall'uso di una TV come monitor, cioè le dimensioni. A meno che non vogliate prendere una vecchia TV Full HD da, non so, 32 pollici o anche meno, che sono anche difficili da trovare, avrete come minimo oggi a che fare con pannelli di almeno 40 pollici. Per giocare o guardare filmati non ci sono problemi, come dire, basta però potersi distanziare abbastanza, o meglio, per giocare dovrete affidarvi un controller, poiché se dovete avere TV e tastiera, mouse sulla stessa scrivania, a distanza quindi ravvicinate dai vostri occhi, vi dico già che non sarà una bella esperienza. Solitamente per giocare, così come per vedere i filmati, è necessario avere nel vostro campo visivo l'immagine completa di quello che avete davanti. Non dovete continuamente muovere la testa e gli occhi per inseguire varie parti dell'immagine. E se chiaramente il monitor è troppo grosso e voi siete troppo vicini, vi ritrovate in questa spiacevole situazione. Invece se dovete lavorare non è così male. Io stesso uso, in mio caso, un monitor, però vale per la TV, da 40 pollici a distanza ravvicinata, quindi su una normale scrivania, e nel mio caso per lavorare non devo per forza avere tutta l'immagine nel mio campo visivo, perché utilizzo vari software posizionati, varie finestre, posizionate in diverse porzioni del monitor. Quindi la mia concentrazione va magari sull'editor di testo, si sposta sulla finestra della mail o su altri elementi. Addirittura in questo caso è possibile che un monitor così grosso possa chiaramente aumentare anche la produttività. Unica cosa, attenzione all'affaticamento degli occhi, cosa che si può un po' risolvere, diminuire, gestendo bene luminosità e contrasto. Quindi è o non è una buona idea utilizzare una TV collegata al PC? La mia risposta di base è negativa, cioè no, non è un'idea particolarmente buona. Il motivo principale è, insomma, l'avete visto, i dettagli da tenere in considerazione sono veramente molti, e se volete fare questa scelta dovete assicurarvi che tutte le voci tecniche, quantomeno la maggior parte delle voci tecniche di cui vi ho parlato, possono essere modificate o non rappresentino un problema. Se però volete andare in questa direzione, quindi vi mettete a fare una ricerca certosina per una TV che permette il massimo controllo, dovrete farvi anche un'altra domanda. Quindi, come userò il PC collegato a questa TV? Se la risposta è principalmente per lavoro e quindi utilizzate tante applicazioni differenti insieme, come detto, potreste avere anche dei vantaggi. Se però ci volete anche giocare, allora ricordatevi che molto probabilmente non riuscirete a utilizzare mouse e tastiera, a meno che di avere, come dire, una scrivania completamente fuori standard, è assolutamente troppo lunga per essere una scrivania normale, cosa, come detto, improbabile. E se poi volete usarla per guardare video a tutto schermo, dovrete essere in una condizione in cui potrete allontanarvi abbastanza dal pannello. Con tutte queste informazioni, credo che ora comunque sarete in grado di fare da soli la vostra scelta, capire se appunto volete soddisfare tutti i requisiti per adottare una TV come monitor PC, o, se in caso contrario, è meglio distinguere le due cose. Io, amici, vi ringrazio per avermi seguito in questo video, spero vi sia stato utile. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un altro video. Ciao! Ciao!